A Soncino sono state organizzate alcune visite domenicali guidate alla scoperta dei suggestivi sotterranei di epoca medievale e dell'antico borgo che risale all'epoca sforzesca, ossia alla metà del 1400. In particolare oggi il presidente dell'associazione Castrum Soncini ha condotto i visitatori nei sotterranei del baluardo di San Giuseppe, che era una grossa torre a difesa della porta sud. In queste visite si vedono due strutture sotterranee dedicate proprio alla cerchia muraria, una è questa all'interno del baluardo di San Giuseppe, dove si possono vedere proprio le caratteristiche di una struttura militare sotterranea, quali le feritoie, gli sferatoi e queste stanze sotterranee che erano dedicati proprio alla difesa della cerchia muraria ed in particolare della porta sud di San Giuseppe, una delle quattro porte medievali. Inoltre si vedono anche altre strutture sotterranee che risalgono a un periodo precedente, in piena epoca medievale, siamo intorno al 1200, che fanno parte del vecchio sistema idrico fognario appunto di epoca medievale. Sulla scia dell'entusiasmo manifestato dai visitatori, a luglio verrà realizzato un percorso serale per appassionati a carattere più avventuroso. Queste visite verranno organizzate in tutto il mese di luglio, in tutta estate, ma saranno serali, quindi unite alla maestosità anche dei monumenti tipo la rocca, perché si vedrà tipo la parte del fossato della rocca e la cerchia muraria, si potranno anche visitare strutture sotterranee in ambienti particolarmente suggestivi e soprattutto di sera, quando ovviamente l'atmosfera ha un qualcosa di più suggestivo e particolare.